Saranno 13 le cantine sarde presenti alla collettiva Sardegna, voluta dall'assessorato regionale dell'agricoltura e curata da ORE in occasione dell'International Wine Expo in programma a Chicago il 22-23 ottobre. Un evento promosso in collaborazione con Vin Italy che offrirà ai produttori vitivinicoli sardi e italiani un canale d'incontro diretto con i buyers degli Stati Uniti. La spedizione sarda negli USA è stata presentata nel corso di una conferenza stampa. Direi che la Sardegna come sempre sì è ormai vetrina eccellente di tutto il panorama sia nazionale che internazionale quindi noi a Chicago ci saremmo dovuti necessariamente andare e porteremo 13 cantine della nostra amata Sardegna dal nord dell'isola fino a sud. È uno sviluppo che sta veramente correndoci da tante soddisfazioni. La Sardegna è quella più richiesta in assoluto sul panorama nazionale e tanti richiedono l'etichetta e le stesse aziende e i produttori stanno diversificando il loro prodotto quindi abbiamo diverse varietà di vini mai contemplati. Ricordiamo che la Sardegna è nata col cannonao e il vermentino e sempre di più sta riscoprendo quelle che sono comunque le varietà autoctone del territorio le sta riscoprendo, stiamo valorizzando e stanno uscendo sempre più consorsi. Siamo quindi ben lieti che questa manifestazione, questo evento internazionale è veramente in un panorama importante come quello degli Stati Uniti che è il mercato più grande, acquirente, divino quindi siamo ben contenti che le nostre aziende, le nostre cantine siano lì presenti per promuovere ancora di più e con maggiore forza il nostro territorio sardo. Ringrazio l'intervento e il lavoro dell'Agenzia Laore che organizza, sto organizzando sempre più incontri e veramente in maniera eccellente.